In un mese il 117% in più di contagi fra gli operatori sanitari, ma la terza dose frena i rischi. L'allarme è stato lanciato dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. In un solo mese gli operatori sanitari positivi sono aumentati del 117% e di questi l'82% sono infermieri. Non si può lasciare l'assistenza al caso, sottolinea la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. E se già prima della pandemia la carenza di infermieri era di oltre 60.000 unità, con la pandemia si è evidenziato un fabbisogno dei nostri professionisti che importanti centri di ricerca, Università e la stessa Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, quantificano da quasi 80.000 a oltre 100.000. Nella manovra di bilancio però in calza Fnopi, gli infermieri non compaiono e nessuno si sta curando di dare soluzione nel breve termine a un'assenza determinante non solo per i pazienti Covid, che proprio per le nuove caratteristiche del contagio possono essere in gran parte assistiti a domicilio, ma anche per i non Covid che devono necessariamente essere assistiti a casa e che non trovano già prima gli infermieri necessari a farlo e ora vedono solo un netto peggioramento della loro condizione. È ora di sganciarsi dai vecchi modelli, continua Fnopi, su cui nessuno più a livello internazionale fa conto e di aprire davvero una stagione di riforme che veda una programmazione della formazione infermieristica in grado, a medio e lungo termine, di coprire le carenze evidenti e lo faccia con la qualità necessaria di infermieri specializzati e formati da docenti che siano della stessa professione.